Una serata ricca di sorprese, emozioni e tanta danza, ripercorrendo l'operato di 20 anni di danza svolti a Castrovillari dall'Accademia Cuba Danza, diretta dalla ballerina e coreografa Vilma Lara De Marra. 20 anni danzando il titolo dello spettacolo andato in scena al Sibarsi di Castrovillari nel quale gli allievi e le allieve dell'Accademia hanno parlato al numeroso pubblico presente di danza e di vita attraverso l'espressione del corpo. E quest'anno i ballerini e le ballerine hanno danzato ancora di più per condividere all'unisono in un unico respiro le lezioni in sala con le proprie compagne, condividendo l'ansia e l'adrenalina pre e post spettacolo, i riti dietro le quinte, i costumi, le luci, l'amore incondizionato e sopra ogni cosa per la danza, per quest'arte così sofisticata e magica. Bello è stato vedere tutte le diplomate di questi vent'anni di attività dell'Accademia Cuba Danza ritrovarsi insieme ancora una volta su quel palco con la loro insegnante come se il tempo non fosse passato perché questo è l'universo danza, serenità, armonia ed equilibrio. Un gran spettacolo presentato da Carlo Catucci e dalla stessa direttrice Vilma Lara De Mar che ancora una volta come accadde vent'anni fa, grazie a tutti gli allievi e le allieve, ai maestri e alla collaborazione dei genitori, ha lasciato libero sfogo alla fantasia ma soprattutto all'amore, l'amore quello vero e puro per una disciplina così rigida ma anche tanto emozionale.